Ed eccoci qua ragazzi bentornati sul mio canale Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su Kingdom Hearts Beard by Sleep Siamo qui pronti per continuare la nostra avventura iniziando una nuova partita Però prima di mostrarvi ovviamente l'inizio della trama di terra Voglio mostrarvi i miei diari segreti Che come potete vedere ci mancano Il diario numero 1, il numero 2, il 5, l'8 e l'11 Che tecnicamente dovrai riuscire a trovare nella trama di terra Teoricamente eh Perché vi ho fatto vedere i diari? Molto semplice perché a quanto so Sono molto importanti e Andiamo direttamente Come potete vedere ci manca solamente terra E ovviamente andiamo E ora tutti mi diranno Eh ma dovevi iniziare subito con terra E ora che ci manca Grazie a tutti. E ricopi e rifacciamo le dame. Eracus però non si accorge di nulla, cioè non è che va a pensare che sia quello dietro a fare qualcosa. E non sono un bambino. Dai, terra! Però... Contro al... Mamma, caos! Oh le... Oh, dov'è? Oh, non ero così... Non lo sapevo se potessero farlo. Con terra è molto più difficile muoverse, però... Non mi fa comando di tiro. Però... È l'ultima. E... E' mo' qua devo battere acqua. Terra e Acqua... The two of you will face each other in combat. Remember... There are no winners. Only truths. For when equal powers clash, their nature is revealed. Begin! Weeey... Che cacchio! Eeeh... Volevi! Però ci sono sempre tre... Cioè, non ho mai... Mi sono sempre chiesto, ma perché tre sedie? E riuscite una decisione. Terra, Acqua... You both performed commendably. However... Only Acqua has shown the mark of mastery. Terra... You fail to keep the darkness within you sufficiently in check. But there is always next time. That is all. Acqua... As our newest Keyblade Master... You are entitled to certain knowledge. Please wait here for further instruction. Hey. Che sfiga. Terra... I'm sorry. The darkness... Where did it come from? Domandati un po' da chi è venuta. Chi è l'unico pirla che non ci sarebbe dovuto essere a sto esame? What do you make of Ventus? He ain't gonna cut it. Somebody's gotta break that loser in. Not here you won't. I have to keep up appearances. E poi già dalla voce. I know that. Già dalla voce si capisce che Xeanorto è qualcosa che non va, eh? Come... Sorry. But I need some time alone... Eccoci qua... C'è un'escrita dentro di me. Quindi cosa importa? C'è un'escrita abbastanza fortale. Si. Sei davvero forte. C'è un'escrita nulla a rispondere. Master Xehanort. E ancora, quanto frustrante che Eraqus rifiuta il suo potere. C'è un'escrita abbastanza fortale. E ancora, non sei mai un'escrita in lui. Ma perché? Help me understand, Master Xehanort. C'è un'escrita che ho scoperto a comprare? C'è un'escrita abbastanza. La scurtura non può essere disperata. La scurtura solo può essere channellata. Si. Grazie, Master. Come mentirà un giovane ragazzo. Più che le campagne di un'allarme, sembrano le campagne di un matrimonio. Non so. C'è un'escrita qui? Non so. C'è un'escrita. C'è un'escrita che i miei pubi per investigare. Sì. Entrò. Sì. Sì. C'è un'escrita. Adesso. Sì. 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 Tranquillo. Sì. 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 E qui c'è la scena che abbiamo già visto. 3 2 1 armatura Varco, apriti Energia Vamos Per caso il conventus me lo dì? Ah, ecco Ok, perfetto Molto bene ragazzi Direi che per oggi Possa essere tutto La prossima volta Ripartiremo da qui Io, come sempre Vi invito A lasciare un bel like A commentare Condividere Iscrivervi al canale Se non l'avete ancora fatto E Alla prossima Ciao Belli